Ben trovati nell'angolo dello sport. Nell'anticipo di ieri sera tra Avellino e Venezia c'è stato un pareggio 1-1 e questo segna il primo gol subito dal Venezia nelle prime partite di campionato. Parliamo del Pescara, Pescara giocherà quindi una partita piuttosto delicata contro Lentella perché dico delicata? Perché sono state troppe chiacchiere dopo il pareggio di Salerno c'è stato quell'intervento del Presidente che avrebbe detto che lui farebbe giocare Brugman regista il tecnico ha risposto dicendo che il Presidente può dire che tutto quello che vuole perché il Presidente comanda lui però l'allenatore sono io e faccio come dico io. Zeman poi parlando della squadra ha detto che è una squadra che può crescere, può diventare anche grande ha detto testualmente, può diventare grande con il lavoro. Che significa questo? Significa che questa squadra non è stata costruita su un corpo già preciso con degli innesti ma è stato rivoluzionato tutto, sono stati venduti tanti giocatori e probabilmente tra le vendite si sente il peso della mancanza al centrocampo di quel Memushai che forse poteva essere l'elemento giusto ma comunque Memushai non è più dei nostri quindi pazienza. Allora vediamo un po' come potrebbe la squadra scendere in campo questa sera. Intanto tra i convocati vorrei ricordare che c'è Fornasie. Allora in Porta Pigliacelli qui non si discute. Poi abbiamo Zampano a destra sicuro, poi al centro o Coda per Rotta o Bovo per Rotta. Io propendo di più per Bovo perché Coda in definitiva ha fatto qualche cappellata di troppo. A sinistra o Mazzotta o Balzano. È probabile però che il turnover sia possibile in questo caso perché effettivamente hanno giocato sabato adesso giocano questa sera ma poi devono rigiocare sabato prossimo quindi può darsi che Balzano possa essere favorito. Centrocampo. Coulibaly. Carraro al posto di Proietti che è infortunato. E Brugman. Brugman. Domanda. Brugman è il pomo della discordia tra virgolette insomma tra il presidente e il tecnico. Allora Brugman giocherà da esterno di centrocampo come ha sempre detto Zeman o andrà a fare il regista questa sera? Vedremo. Davanti del sole Pettinari Capone che ha giocato benino a meno che invece non propenda il mister per Ben Ali perché è più esperto. Però su Ben Ali pesa un po' quella prestazione non proprio eccelsa di Salerno quando è stato chiamato a sostituire il suo compagno di squadra. L'arbitro vi ricordo è il signor Serra di Torino. Come giocherà il Lentella? Allora Lentella che è allenato da Castorina gioca con il 4-3-1-2. Castorina predilige il rombo centrale, il quadrilatro centrale al rombo. Giocherà con Iacobucci che molti ricorderanno a Pescara quando da ragazzo giocava con l'Arenato Curi ma non è riuscito mai ad entrare nella formazione bianca-azzurra del Pescara anche se era un portiere e lo è di tutto rispetto, tutto valore. Non ricordo bene ma spero che sia intorno ai 26 anni Iacobucci. La linea di difesa, Belli, Ceccarelli, Pellizze e Baraglie. Centrocampo, Eramo, Troiano, Palermo. Poi Nizzetto davanti che si mette dietro Luppi e Diav che sono le due punte. Per gli scommettitori il Pescara è favorito. Vi ricordo e chiudo che il Pescara ha giocato allo Stadio Adriatico due volte con l'Entella e ha vinto tutte e due le volte. È tutto, un affettuoso abbraccio da Gianni Lussoso come sempre e un grazie particolare al regista Leo Di Blasio. Appuntamento alle prossime edizioni di TVQ Sport. Appuntamento alle prossime edizioni di TVQ Sport.